Sono meno ottimista perché io credo che invece il coronavirus abbia già fatto un morto nella scuola e questo morto si chiama scuola dell'autonomia e mi vado ad argomentare e a giustificare questa mia dichiarazione. Innanzitutto nel decreto del primo marzo stava scritto che i dirigenti scolastici possono di concerto con il collegio dei docenti attivare una didattica a distanza. Con l'ultimo decreto il posto non scompare ma ha scritto che i dirigenti scolastici attivano una didattica a distanza, attivano è l'indicativo. Il collegio dei docenti scompare, quindi cominciamo ad avere una scuola dell'uomo solo al comando come se si potesse fare musica solo con il maestro di musica e l'orchestra non ci sta più. Le scelte dovrebbero essere legate al territorio, quindi noi abbiamo soprattutto in certi territori, per usare un termine alla moda, che sono soggetti al digital divide, alla divisione digitale, noi abbiamo che i ceti, le persone, i ragazzi meno abbienti non possono seguire le lezioni. Quando tu lasci a casa, sospendi le attività didattiche, lasci a casa i docenti, però i personaleati, i collaboratori scolastici vanno, allora se c'è un rischio di contagio, il rischio c'è per tutti e sembra invece che queste persone siano persone sacrificabili. Io ora da uomo di scuola e di sindacato, uomo di sindacato che nelle scuole ci va, posso testimoniare il lavoro immane che hanno fatto i collaboratori scolastici sanniti, immane, ai quali va la mia personale gratitudine. Perché hanno fatto l'impossibile per consentire la riapertura delle scuole, però di questo non se ne parla, quindi sono sacrificabili come il personale di segreteria e quindi esce fuori una scuola divisa.